Benvenuti alla Smart Mint School canadese, la scuola canadese per aiutarti a imparare l'inglese e il francese, le due lingue ufficiali di questo bel paese, per aiutarti a imparare questo, eccoci qui, Canada Smart Mint School aiuterà ad imparare l'inglese e il francese in un modo più rapido e consolidato di quanto sappiamo utilizzando l'approccio lessicale, ti insegniamo come navigare e utilizzare i moduli più recenti per mostrare il tuo talento e la tua esperienza a qualsiasi datore di lavoro in Canada per trovare un lavoro, inoltre, ti mostriamo in quali luoghi puoi considerare di stabilirti per avere una bella vita e per seguire i tuoi sogni, se sei interessato ad alcune delle cose qui, vedi di persona cosa possiamo offrirti, sul sito Canada Smart Mint puoi vedere questo, nel menu in alto, ai corsi e sotto, avrai inglese, quando premi questo, avrai una schermata con un menu in alto che è i tre livelli del corso. Scoiattolo, Orso, Castoro, sono equivalenti a base, intermedio, avanzato, raggiungendo questi livelli, vedrai i contenuti che verranno utilizzati per coprire le tue esigenze, e utilizzandoli aumenterai la tua padronanza della lingua per ottenere il punteggio necessario nei test internazionali, e potrai immigrare in Canada, o negli Stati Uniti e avere una vita molto comoda, ora dici i tuoi dubbi specifici nei commenti, o inviaci un WhatsApp o un email, che puoi trovare nella nostra descrizione, inoltre, puoi facilmente accedere al sito web Canada Smart Mint utilizzando il collegamento nella descrizione, paghi a buon mercato come 12 dollari canadesi al mese o 9 dollari USA al mese o 55 dollari reali al mese, o 6 dollari UE al mese, pagamento ricorrente fino a quando non lo annulli, avrai accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avrai un piano di studio che ti guiderà attraverso i contenuti, fai le tue richieste per esigenze specifiche, basta fare la previsione del budget oggi, contattaci nella descrizione, grazie mille per guardare questo video e mostrare il tuo interesse, ci vedrai alla prossima, arrivederci.